Ci sono diversi fattori chiave che i votanti del Comune di Pietrasanta dovrebbero considerare quando valutano i candidati in un confronto elettorale. In primo luogo, prestare attenzione alle opinioni dei candidati su questioni politiche importanti, come economia, sicurezza nel Comune, frazioni, ambiente, viabilità con le nuove rotatorie e piazza 24 maggio a Tunfano. Per gli eventi diritto al voto nella piccola Atene, il faccia a faccia elettorale organizzato da Noi TV con il quotidiano La Nazione, svoltosi giovedì in Sant'Agostina e Pietrasanta, ha messo a confronto i quattro candidati che hanno fatto emergere progetti e proposte. In corsa ci sono Alberto Stefano Giovannetti, Massimiliano Simoni, Lorenzo Borzonasca e Luca Mori. Durante il dibattito condotto da Federico Conti e Tommaso Strambi della Nazione, i candidati si sono punzecchiati. Salvo un primo verdetto che potrebbe eleggere il sindaco già al primo turno, i quattro non si sono espressi sui possibili apparentamenti in caso di ballottaggio. Giovannetti pensa di vincere il primo turno e propone agevolazioni per la sosta anche per le seconde auto. Borzonasca apra a chi vorrà condividere il suo documento d'intesa e per la tutela dei pedoni vorrebbe un nuovo piano di ciclopiste. Massimiliano Simoni, se ci sarà ballottaggio, valuterà eventuali accordi e intende istituire una consulta ambientale per riaprire piazza 24 maggio. Luca Mori aspetta di vedere cosa accadrà nel centro-destra e dice no ad un accordo con il centro-sinistra. Per lui sarebbe fondamentale unire la Sarzanese e l'Aurelia per decongestionare Porta a Lucca.